Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, ben ritrovati in questo nuovo video di giorno di match day, di giornata in cui andiamo a giocare una partita che per quanto mi riguarda è molto, molto importante. Vi chiedo ovviamente di lasciare un like a questo video per cercare di spingerlo il più possibile perché andremo a toccare i soliti argomenti che andiamo a toccare nel giorno della gara e cioè che tipo di squadra andiamo ad affrontare e che tipo di squadra andremo a mettere noi in campo e faremo anche un breve passaggio sulla conferenza stampa di ieri più che altro sugli indisponibili, sui recuperati e su una domanda in particolare di Nicola Balice che mi ha riportato un po' alla mente anche qualcosa che stavo pensando ieri. Ieri mi sono preso una giornata di relax quindi non abbiamo fatto il video alla conferenza stampa, aggiungo meno male perché comunque di grosse cose a parte appunto i recuperati e questa cosa qui di Nicola non c'era niente da dire e niente, ragioniamo un attimo insieme di quella che potrebbe essere la giornata di oggi. Ovviamente vi ricordo di passare qui sotto in descrizione per scaricare il numero 10 perché poi il post partita di Allas Verona Juventus non lo troverete sul mio canale YouTube ma lo troverete appunto sull'applicazione numero 10, è il contenuto in esclusiva di questo mese so che in tanti non hanno ancora scaricato l'app quindi vi aspetto all'interno dell'applicazione. E ragazzi io direi di partire prima dal discorso relativo alla domanda di Nicola per poi passare alla probabile formazione e concludere infine con una breve analisi per quanto riguarda il confronto tra Juventus e Inter. Nicola Balice che cosa chiede a Massimiliano Allegri? Fa una domanda in cui mette dentro un passaggio sul fatto che la Juventus non ha ancora battuto l'Inter da quando Allegri è tornato appunto sulla panchina della Juventus. Io voglio allargare un attimo il discorso e dire che la Juventus non ha ancora vinto uno scontro diretto tolta la partita col Chelsea in casa per 1-0 gol di Federico Chiesa da quando appunto Allegri è tornato sulla panchina della Juve. Io credo che questo sia un dato imbarazzante, imbarazzante, perché non è possibile non vincere praticamente uno scontro diretto. Non hai mai battuto il Napoli, non hai mai battuto il Milan, non hai mai battuto l'Inter, non hai mai battuto l'Atalanta, hai battuto soltanto la Roma e la Lazio di squadre abbastanza vicine a quelle che dovrebbero essere le ambizioni per cui lottare. La Lazio che tra l'altro sarà il nostro ultimo avversario in questa prima parte di stagione che andrà a concludersi pre-mondiale e noi dobbiamo assolutamente cercare di collezionare 9 punti nelle prossime 3 partite, già a partire da questa sera. Però davvero la Juve non ha mai battuto l'Inter. L'anno scorso abbiamo giocato 4 volte, 2 volte in campionato, una volta in finale di Supercoppa, una volta in finale di Coppa Italia e abbiamo sempre perso a San Siro l'andata in campionato una partita brutta, non solo nostra, anche loro, proprio una partita brutta. Un po' sulla falsa riga di Lecce-Juve con Dzeko che segna quel gol abbastanza fortuito con la palla che gli finisce lì dopo una traversa e poi il rigore calciato da Paolo Di Bala con Chiesa Di Bala che partono in panchina in quella partita lì e veramente annulliamo completamente la nostra fase offensiva. Così come nella partita della finale di Supercoppa, giocata ancora una volta a San Siro, dove abbiamo sì tanti assenti ma dove cerchiamo anche di ridurre all'osso un po' quelle che sono le nostre folate offensive e ci preoccupiamo tanto di difendere e quasi mai di offendere. Ricordo che errore di Alexandro a parte l'ho molto amareggiato per quella che era stata la preparazione della partita. Ero allo stadio, ero lì dal vivo, aveva fatto gol McKennie in uno dei pochi e rari casi in cui eravamo riusciti a mettere il musetto dall'altra parte del campo negli ultimi metri da parte dell'Inter e poi ci sono le ultime due partite che invece, secondo me, sono le più belle giocate della Juventus, delle quattro giocate con l'Inter. Quella allo stadio è sicuramente una delle migliori prestazioni dell'anno in cui perdiamo una zero gol di Cialanoglu su rigore dove probabilmente meritavamo di più dal punto di vista di quello che avevamo creato e anche forse dal punto di vista della fortuna perché ricorderete che ci furono alcune decisioni un po' così però anche questo fa parte del calcio ed è inutile stare qui a rimuginare cose che sono accadute in passato. Invece quella che mi ha dato più fastidio in assoluto è stata la finale di Coppa Italia dove ero presente ancora una volta allo stadio, abbiamo giocato all'Olimpico di Roma dove nel primo tempo l'Inter ci disintegra, ci distrugge poi Allegri decide finalmente di cambiare qualcosa nella formazione di Bala, Morata, Vlaovic tutti insieme la Juventus ha un quarto d'ora, venti minuti di spinta allucinante e ti fa veramente capire questa squadra che è fatta per giocare in avanti. La Juventus la ribalta, prima la pareggia e nel giro di altri cinque minuti va avanti addirittura segno che questa squadra quando va a briglia sciolta qualcosa può fare e poi cosa succede? Decidiamo ancora una volta di amministrare quel minimo vantaggio ma non tanto inserendo un altro difensore e passando alla difesa 3 quello ci può anche stare, quanto più rinunciando completamente ad attaccare. E allora viene fuori l'Inter, vengono fuori le giocate dei campioni viene fuori Perisic, la doppietta di Perisic ci manda a casa e fa parte del calcio, fa parte anche di una lettura corretta di quella che poteva essere la rosa della Juve l'anno scorso è una lettura che secondo me non è mai stata corretta da parte dell'allenatore e con la sconfitta finale di Coppa Italia l'anno scorso non solo la Juventus non sarà in grado di battere l'Inter in una sola delle quattro sfide ma sfuma anche l'occasione di portare a casa almeno un trofeo perché poi l'Inter l'anno scorso ha portato a casa due trofei vincendo due finali contro di noi. Ora invece l'Inter e la Juve si ritrovano in una posizione abbastanza scomoda, entrambi in campionato Champions League, l'Inter ha passato un girone incredibile mentre noi siamo usciti fallendo miseramente il nostro primo obiettivo stagionale ma in Serie A siamo lì e vincere stasera ti proietterebbe davanti all'Inter che già poco non è sicuramente per il disastro iniziale di questa stagione però per farlo bisogna vincere contro l'Inter e non ci siamo mai riusciti l'anno scorso e l'anno scorso non siamo mai riusciti a battere un'avversaria diretta ripeto eccezione fatta per il Chelsea così come quest'anno non siamo mai riusciti a vincere uno scontro diretto col Milan abbiamo perso e bla 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 PSG, Benfica, quello che volete quindi servirà qualcosina di più proprio dal punto di vista mentale e dell'atteggiamento e proprio per questa cosa qui vorrei collegarmi un attimo a quella che è la probabile formazione di oggi perché? Perché Miretti e Milik davanti esattamente come con il PSG perché Vlaovic non sta ancora bene in mattinata si deciderà se convocarlo o meno Allegri ce l'ha detto Vlaovic ancora un attacco di pubalgia è meglio lasciarlo a riposo vi dico io per la pubalgia perché è una brutta bestia quindi delle due preferisco non averlo per la partita con l'Inter piuttosto che rischiare di toglierlo ancora per il futuro recupera Di Maria magari non dal primo minuto infatti dovrebbero giocare Miletti e Milik però sai con Di Maria e Chiesa pronti a subentrare qualcosa ti può inventare ho fatto anche la rima involontaria quadrate costi sugli esterni perché quando giochi difesa 3 ci puoi fare poco e anche qua esattamente come il PSG e anche il centrocampo esattamente come il PSG quindi i 5 di centrocampo e i 2 davanti esattamente come il PSG così come Alessandro a sinistra così come Shesniporto un principio di continuità oh mio Dio inizia a nevicare? mi state dicendo che inizia a nevicare? certo si poteva ricalcare la formazione perfetta con Bonucci al posto di Bremer e Gatti al posto di Danilo però si è optato probabilmente per quella che è la configurazione che dà più sicurezze in fase difensiva e secondo me Bremer e Danilo insieme ad Alexandro sono il trittico migliore possibile schierabile in questo momento quando li abbiamo visti insieme hanno fatto il loro quindi devo dirvi se questa sarà la formazione io sono d'accordo perché è esattamente secondo me con gli uomini a disposizione valutando anche le disponibilità fisiche dei ragazzi la miglior formazione è possibile da fare poi è ovvio che non è soltanto mettere gli undiciomini in campo perché se no l'allenatore potremmo farlo tutti però sicuramente è un buon punto di partenza anche avere i giocatori giusti nei loro ruoli sapete che io non sono amanti la difesa 3 però difesa 3 da quando abbiamo vinciato questa rincorsa un po' con il Toro che ha portato le tre vittorie consecutive in campionato è inventato una sorta rimarchio di fabbrica dalla Juventus che ha fallito ovviamente tra Benfica e PSG ma ribadisco non è soltanto mettergli uomini in campo poi c'è tutto quello in mezzo però la prestazione col PSG a me era piaciuta e sono convinto sono sicurissimo che replicando la stessa prestazione del PSG anche oggi con l'Inter il risultato sarà sicuramente diverso poi nel calcio può succedere di tutto può esserci qualsiasi cosa cioè ci può essere veramente qualsiasi cosa però se riusciremo a ricalcare la prestazione la voglia la grinta la determinazione e le giocate che abbiamo messo in campo con il PSG sono davvero convinto che difficilmente si riuscirà a perdere questa partita e poi nel caso si potrà essere soddisfatti e figli orgogliosi dei ragazzi anche magari senza una vittoria poi io ragazzi la vorrei vincere in realtà sta partita proprio perché sta diventando anche una situazione abbastanza stressante devo dire la verità non vincere mai lo scontro diretto a me è un po' da noia questa cosa e dato che il Napoli anche ieri ha vinto Bergamo dato che il Milan anche ieri ha vinto con lo spesso tra l'altro curiosissimo vedere il gol di Maldini contro il Milan veramente una roba impressionante però lo sport ci regala anche queste storie qui a San Siro tra l'altro e ora cerchiamo invece di capire quelle che sono le caratteristiche dell'Inter in confronto alla Juventus quindi questo è il confronto grafico che ci offre Soccerment magari vi lascio anche i link qui sotto in discrezione per la piattaforma di Soccerment la Juventus è quella in azzurrino come potete vedere l'Inter è quella in verde sono due squadre abbastanza diverse la cosa principale da notare è che vabbè il dato più discostante di tutti è il clean sheet noi facciamo più clean sheet rispetto all'Inter vabbè questo però è qualcosa che può cadere come no perché si parla di millimetri il gol che entra non entra il rigore fisicato non fisicato quindi clean sheet lo scerà un attimo da parte però il dato inerente al dribbling è clamoroso perché noi siamo una squadra terrificante sul dribbling terrificante l'Inter è peggio di noi l'Inter è peggio di noi quindi stasera sicuramente non dovremo aspettarci in base ai dati della Serie A una partita di duelli individuali uno contro uno o di giocatori che provano a saltare l'uomo dovremo invece aspettarci una partita con tanti recuperi infatti i 26 Inter sono due squadre che recuperano tanto e passano il giusto nella metà campo avversaria quindi una partita molto bloccata in teoria nella nostra metà campo e nella loro metà campo quindi la classica partita che potrebbe essere decisa a centro campo e chissà che qui l'ottimo momento di forma fisica dei nostri giocatori a centro campo possa risolvere la partita attenzione che di là barella invece al piede caldo infuocato veramente in un momento di forma fisica clamoroso attenzione però che loro sono molto più precisi di noi nei tiri in porta quindi loro tirano molto di più rispetto a noi e segnano anche più gol rispetto a noi quindi dal punto di vista squisitamente statistico l'Inter è una squadra un po' più quadrata se vogliamo dal punto di vista dello sviluppo una squadra che soffre un po' di più quindi magari prende un po' più gol però che riesce anche a farne un po' di più invece la Juve è una squadra più chiusa più rognosa che difficilmente va a concludere ma difficilmente anche prende gole infatti è la miglior difesa del campionato per quanto riguarda invece le statistiche inerenti alla Juventus vi lascio anche questa sfilarata di statistiche se volete vi vado anche a far vedere la sfilarata di statistiche dell'Inter così potete confrontarvele magari mettete in pausa il video e vi andate a guardare un po' tutte le statistiche questo è ovviamente il confronto dell'Inter con la media della Serie A infatti vedete che l'Inter è sotto decisamente la media della Serie A di dribbling forse una delle squadre peggiori dal punto di vista dei dribbling il loro giocatore che dribbla di più è Brozovic il nostro è Ken quindi proprio la sagra delle informazioni particolari comunque vi lascio il link per analizzare anche voi tranquillamente gratuitamente sul sito per fare anche voi la stessa cosa che ho fatto io e quindi ragazzi questo è un po' il riassunto generale Bremer recuperato 100% dovrebbe partire titolare al posto di Bonucci di Maria e Chiesa dovrebbero essere i game changer se possiamo chiamarli così giocatori che a un certo punto della partita magari è una partita bloccata come mi aspetto appunto guardando un attimo i dati possono avere quello strappo decisivo a difese stanche per invertire la tendenza di una partita magari fin troppo spenta e Vlaovic chissà si recupererà almeno per la panchina Gatti sostituito da Danilo però in questo momento io credo che sia anche giusto così Gatti ha fatto delle ottime prestazioni in momento difficile però Danilo è ancora qualcosa in più e invece a centrocampo è giustissimo confermare sia Fagioli che Miretti che sono in un momento di crescita mostruoso clamoroso e quindi credo che quella sia in assoluto la formazione migliore poi vedremo quella dell'Inter Bastoni dovrebbe avere un problemino chissà si recupererà ma noi abbiamo poco da guardare in casa degli altri abbiamo già abbastanza problemi in casa nostra con la speranza che questa sera al tischio finale molti più problemi possono essere dalla parte dell'Inter e un clima un po' più sereno e disteso possa passare invece dalle parti di Torino con la prima partita vinta in uno scontro regretto la prima partita vinta della Ligri Bis nei confronti dei rivali nerazzurri